ciao sono emiliano galli dell'agenzia immobiliare maxi dal case e oggi sono in zona boccea battistini via gregorio 13esimo e quello che ti presenta l'appartamento matilde è un appartamento ristrutturato in ottimo stato interno che ha la particolarità e la bellezza deve avere uno spazio esterno più che vivibile che vi faccio vedere subito dal video quindi loro l'hanno attrezzato con un'aria salottino pranzo e con il fatto che hanno una bimba questa parte è stata tutta riservata aria giochi come vedete è uno spazio più che vivibile e la fortuna di questo appartamento qual è che non affaccia su strada ma affaccia internamente quindi per intenderci dietro quelle palazzine c'è la metro battistini quindi viaggia bonifazi quindi rimane molto tranquilla come affaccio e peraltro questa esposizione è un'esposizione a sud quindi la casa è un piano terra che affaccia da primo piano c'è questo soggiorno con angolo cottura ben distribuito tra zona cucina zona pranzo e zona living poi c'è un disimpegno che porta le due camere da letto e al bagno quindi questa è la prima stanza una camera comunque matrimoniale entrano tantissimi giochi armati come vedete l'affaccio è interno verso il distacco tra le due palazzine disimpegno camera matrimoniale quindi tutte le due le camere sono matrimoniali questa che vediamo in questo momento è leggermente più grande e ha anche la particolarità di avere eccolo qui adesso ve lo faccio vedere quella porta a soffietto che c'è una cabina armario e infine il bagno è un bagno comodo box doccia comodo sanitari lavabo e finestrato con lo stessa esposizione del terrazzo quindi ricapitolando siamo in via gregorio tredicesimo piano terra che in parte affaccia da primo piano è un appartamento esposto a sud ed est molto luminoso e soggiorno con angolo cottura due camere matrimoniali e bagno più il terrazzo esterno se è la casa che stai cercando contattami ricapi di chiave sulla destra grazie a tutti Per vendere casa puoi fare tu le foto Mettendoci tutto te stesso Ma con un agente Remax Eccoci, come va? Hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi Grazie 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 Grazie